Poi c'è il Presidente Campanino che è per piacere prende il posto mio perché questo modello di sposo può essere trasferito anche in generale e io ho un conflitto di realtà psicologica che è devastante. Detto questo mi piacerebbe sicuramente fargli un portale, queste esperienze e questo brand nel Senato perché ne hanno tanto bisogno, è contaminare l'operato di grasso, l'operato dell'attolpia, però questo non dipende da me, dipende da questa situazione, da questa situazione più culturale.